Toccando su questa manovra, a partire da stasera poi. Beh, è la partita degli alleati del governo, i vari alleati vogliono mettere le loro bandierine per dire eccoci qua, abbiamo fatto delle proposte giuste. È vero che migliaia di emendamenti sono ricorrenti nella storia della Repubblica. Quello che colpisce è quello che colpisce. La domanda è se lei ha riscontrato negli alleati del Movimento 5 Stelle o di Italia Viva più un interesse a sostenere il governo o più un interesse a farsi forte magari per una campagna elettorale prossima avventura. La prima che ha detto, nel senso che abbiamo già fatto delle riunioni preparatorie, per esempio sul decreto fiscale che verrà votato tra pochi giorni nella riunione di maggioranza, se abbiamo sostanzialmente, anche lì ci sono molti emendamenti presentati, ma abbiamo già concordato una linea finale, comune, quindi io vedo un legittimo anche volontà dei parlamentari di occuparsi anche dei problemi nel loro territorio, di segnalare questioni importanti e di sollecitare interventi specifici e anche dei partiti di rimarcare la loro identità. Ma insomma, però non vedo francamente nessuna particolare tensione sul fatto che poi si arriverà a un'intesa che confermerà l'impianto della manovra e migliorerà alcuni provvedimenti, quindi il passaggio parlamentare è importante e positivo anche per questo.